Seconda parte del video dedicato al sistema di trasporto pubblico qua della città. Qua non c'è metropolitana, c'è questo sistema di autobus. Allora io prima ho preso l'autobus nel tubo e sono sceso adesso qua nel terminal. E' come una stazione della metropolitana a cielo aperto e ci sono altri tubi, ci sono altri autobus, autobus che passano da fuori, autobus che passano da dentro. Insomma qua si incontrano varie linee di autobus, quindi pagando un solo biglietto d'ingresso si ha accesso a tutta la rete di trasporto. Questa è una cosa comunque bella perché comunque la città è grande quindi c'è bisogno di spostarsi, sono tantissime le persone che utilizzano questo servizio e diciamo che funziona, funziona bene. Io personalmente ho preso l'autobus tantissime volte per andare al lavoro. Di solito c'è tantissima gente, oggi meno, ma oggi è festivo quindi quindi oggi è tranquillo. Di solito c'è molta 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 gente e qua è pieno e diventa un pochino complicato. Ma per chi non vuole spostarsi in macchina, perché comunque in macchina c'è anche un sacco di traffico, preferiscono le persone o sono obbligate a venire qua. Comunque il sistema è buono, funziona, funziona come una metropolitana. Approvato.